Ciao a tutti e bentornati all'apice del football. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, è quasi il momento del draft e quindi prima di iniziare a parlare dei linebacker vi dico che la prima notte del draft saremo in diretta su youtube, quindi vedremo insieme tutte le pic, le analizzeremo, le commenteremo, le reazioni, tutto quello che può succedere. Quindi mi raccomando prima notte del draft venite sul canale e guardiamo il draft insieme. Ora possiamo parlare dei linebacker, questo non è un anno in cui tanti linebacker verranno presi al primo giro, non è come l'anno scorso, quindi vi dirò soltanto due nomi, ma sono due nomi davvero molto importanti, due nomi che ci aspettiamo faranno un grande impatto al livello successivo. Poi ovviamente farò dopo il draft delle analisi squadra per squadra in cui quindi potrete vedere per la vostra squadra tutti i giocatori che cosa, che impatto avranno sulla vostra squadra. Quindi andiamo a parlare di questi due linebacker, sono due linebacker completamente diversi, quindi non c'è esattamente un ranking. Comunque il primo di cui parliamo è Nakubidim, che è un inside linebacker, che però è davvero molto, molto vario. Sicuramente la cosa che mi piace di più di lui è la capacità di leadership, il modo in cui lui ha diretto la squadra della Georgia, in cui ha diretto una delle migliori difese che abbiamo visto in questi ultimi anni nel college, è stato riconosciuto da tantissimi premi, è stato riconosciuto come il miglior linebacker del college, è entrato nella prima squadra dell'SEC, dove ci sono tutti i giocatori migliori difensivi e offensivi, è stato riconosciuto come il miglior giocatore difensivo dell'SEC da Pro Football Focus, quindi tantissime organizzazioni hanno riconosciuto il suo grande talento. Quello che secondo me va oltre quello che abbiamo visto sul campo è la sua capacità di gestire la squadra intorno a lui, la sua capacità di tenere il morale alto, che non è poco da fare, ma anche di dare direttiva ai suoi compagni su come piazzarsi, su come vedere, su come leggere l'attacco, e secondo me queste sono qualità che sono fondamentali per andare al livello successivo e che si vedono in tutti quei giocatori che poi fanno bene in NFL. Quando vediamo i giocatori in NFL che hanno fatto bene andiamo al college e si vede l'intuito, la capacità di analisi del gioco, il football IQ, ed è questo che porta i giocatori ad essere ad un altro livello in NFL, quindi a livello professionale. Da un punto di vista diciamo più tecnico, se vogliamo dire, è ottimo nel placcaggio, quindi se parliamo tipo di run defense, è un ottimo placcatore, l'angolo sicuro, la tecnica è giusta, l'istinto c'è, problema, manca la forza, non è un giocatore molto grosso, è un giocatore molto alto, è 6 piedi, in un linebacker in generale preferiamo magari 6 piedi e 3, che è una differenza di 10 cm, quindi non è poco, e quindi questo lo porta per mancanza di forza a subire, a volte contro tight end grossi, contro full back, però l'istinto assolutamente c'è, lui sa esattamente dove andare, sa esattamente cosa fare, e per questo funziona molto bene la copertura a uomo, il blitz lo fa molto bene, perché riesce a leggere il quarterback, quindi pass rush, quindi queste sono tutte aree in cui lui può assolutamente eccellere. L'unica area in cui io l'ho visto essere un pochino più in difficoltà al college, ma che può essere sicuramente migliorata in NFL, è la tecnica a zona, però con un coach giusto, sicuramente la tecnica della copertura a zona si può migliorare quando si è in NFL, senza troppi problemi. Sicuramente il problema è la taglia, la mancanza di forza, vedere quanto può subire quando deve giocare contro giocatori molto aggressivi, molto grossi, come sappiamo che ci sono in NFL. Il prossimo linebacker di cui vi parlo è Devin Lloyd, che è arrivato in NFL con delle statistiche assurde, 111 placcaggi, un forced fumble, 8 sac, 4 intercetti, di cui 2 pick 6, delle cose assurde davvero. È stato utilizzato principalmente come pass rusher, quindi principalmente si allinea come outside linebacker, ma può fare benissimo il mic, perché è decisamente intelligente, è in grado di coprire quel ruolo, quindi è molto versatile sulla linea dei linebacker, ma è anche buona in copertura. Era un ex safety, quindi riesce a capire come dominare lo spazio, quindi come andare in copertura a zona, principalmente, ma anche come andare in copertura a uomo. È molto aggressivo, quindi Devin Lloyd da molti è definito come il miglior linebacker di questa classe, quello che farà più impatto a livello successivo e si può benissimo vedere. Problema? Non è dominante fisicamente. Deve usare altri mezzi, esattamente come Nacobitin, non è fortissimo e questo lo porta a non fare il livello di cose che vorrebbe fare, deve, diciamo, aggirare questo problema usando l'intelligenza che sicuramente non gli manca e questo è fondamentale e la sua capacità di correre, di cambiare direzione, di essere scattante, sicuramente sono tutti attributi che lui ha. La mancanza di forza è sicuramente fondamentale, però secondo me non è fondamentale come altri tratti, quindi sicuramente questa è una mancanza che si farà sentire per questi due giocatori, però a livello successivo vediamo spesso giocatori che magari atleticamente non sono ideali, ma che comunque riescono a fare bene perché ci mettono la testa, perché sanno esattamente come giocare questo ruolo, questo gioco del football. Quindi questi sono i due linebacker che vedremo. Ho provato a fare qualche mock draft, secondo me nessun altro linebacker andrà al primo giro, quindi questi sono i due nuovi che vi presento. Quindi mi raccomando, pronti per il draft, siamo lì praticamente, mancano pochissimi giorni. Vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vedremo per fare il nostro mock draft tutti insieme.